Terzo millennio, la tua porta è ancora chiusa, c'è una parola per passare il segno, un motto di malleveria sovrana? C'è, non sai chi lo pronunzia e nemmeno chi lo giudica, ma c'è, la mente umana greve e insoddisfatta lo desidera, dura contro di sé, sfrondare di frivolezza e vanità lo scibile, portare in salvo l'essenziale opera di bellezza e conoscenza, alleggerire il carico della presuntuosa fatuità. Da questo purgatoriale rogo uscirà l'uomo, spero, spoglio, proteso al meglio, al lavoro costruttivo, alla pace, alla fraternità.